un ucciso a destra ancora qua ragazzi dov'è giù c'è impagliato si si mi basta intanto non le scaricherò mai tutte quindi qua si stanno scannando da che parte? qua dove sono io ormai non sei spiaggia anche tu l'ora ho fatto un po' di spiaggia poi sono un po' così oggi voglio restarmi tranquillo se vado di spiaggia so come si vede dov'è questo oricchione qua? è dietro con la pietra lì dentro la pietra pomice? la pietra pomice gli ho fatto 180 però adesso si sta la pietra ma questa di pietra? l'ho preso a me cazzo io non lo vedo io ci sto andando io ok giù qua è sotto di te è Zeus 30 30 30 bianco lori c'è gente qua un altro è morto quello è dietro l'albero qua terratto un orto c'ha delle cure allora un barinozzo vieni io ti posso lanciare un pesce a me serve la vita vai l'ho lanciato blu qua c'è gente che si massacra il pesce l'avete preso si 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 sono qui che cazzo è vai li dobbiamo uccidere sono all'albero non riprenditi ste barche qua e te le fai hanno rifiutato te le mangi ti danno anche vita non riusciamo a salire di qua porca merda siamo contro due giocatori ne hanno rifiutato ma non so dove non ha rifiutato 29 1 e terra ok e vai ok 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 ok